ciao a tutti sono lisa casali lo sapete che nella buccia della mela c'è il 700 per cento in più di vitamina c che nella polpa oppure se prendete il sedano trovate nelle foglie più del 500 per cento in più di polifenoli che nei gambi che di solito consumiamo o ad esempio la zucca nella buccia c'è più del 145 per cento in più di fibre che nella polpa che di solito consumiamo queste novità e queste scoperte soprattutto le trovate nel grande libro delle bucce è un libro che vi insegnerà per ogni ingrediente a utilizzarne tutte le parti senza sprecarne più nessuna è un libro che permette di ad esempio guardate la carota usare le foglie tutte le parti valorizzarle al massimo anche con tecniche di cottura pensate apposta per valorizzare al massimo ad esempio i polifenoli la vitamina c è un libro che vi farà risparmiare fino al 50 per cento sul budget della spesa settimanale ridurrà il vostro impatto ambientale azzererà gli sprechi vi renderà anche decisamente più green e con un minore contributo ai cambiamenti climatici infine non dimentichiamolo vi farà fare il pieno di antiossidanti quindi preziosi composti che rafforzano il sistema immunitario e ci rendono più forti e più resistenti insomma in un momento come questo direi è assolutamente importante e preparatevi anche a una piccola rivoluzione in cucina ciao a tutti